Presidente del sindacato, sono tanto fiera di te, papino. Questa è la tua occasione per ottenere un valianza per i lavoratori. E per stabilire contenti vi danno durante il mondo del crimine organizzato. Mmm, crimine organizzato, mitico. Don Homer, una ciambellata che ti è speciale per voi, la preparai. Grazie. No, no, vai ruba proprio i miei cucchetti, se in cuoio. Molto bene. Questa ciambella è deliziosa.